La sicurezza dei centri urbani nel territorio nisseno continua a essere in cima all'agenda delle istituzioni locali e provinciali. Questa mattina il prefetto Chiara Armenia e i sindaci dei comuni di Mazzarino, Vincenzo Marino, Vallelunga Pratameno, Giuseppe Montesano e Villalba, Paola e Mordino, alla presenza del vice prefetto hanno sottoscritto i patti per l'attuazione della sicurezza urbana e l'installazione di sistemi di videosorveglianza con la finalità di adottare strategie congiunte volte a contrastare le diverse forme di illegalità e garantire ai cittadini delle comunità locali il diritto alla sicurezza e alla qualità della vita urbana. L'iniziativa è ispirata dal decreto legge sulle disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, convertito in legge che indica tra gli strumenti privilegiati per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria l'installazione di sistemi di videosorveglianza. Le zone maggiormente sensibili da monitorare attraverso l'installazione delle telecamere sono per lo più quelle in prossimità delle scuole, quelle del centro storico e nelle vicinanze delle isole ecologiche, oltre che quelle vicine ai palazzi municipali. Sincero apprezzamento è stato espresso dai sindaci perché l'installazione dei sistemi di videosorveglianza nei rispettivi territori comunali, oltre a dare un importante contributo in termini di promozione del decoro urbano, concorre ad accrescere la percezione di sicurezza dei cittadini che avvertono maggiormente la presenza dello Stato e delle amministrazioni locali sul territorio. Infine il Prefetto ha ribadito l'importanza dei dispositivi di videosorveglianza anche come supporto all'attività della Polizia Giudiziaria attraverso l'implementazione dello scambio informativo tra le forze di Polizia Locale e quelle statali. Grazie. Grazie.